Dichiariamo in nome di tutti e di ognuno del nostro credo che la schiavitù moderna in termini di tratta delle persone, lavoro forzato, prostituzione e traffico di organi è un crimine di lesa umanità. Così Papa Francesco ha aperto l'incontro per la firma della dichiarazione dei leader religiosi contro la schiavitù tenuto in Vaticano nella Casina Pio IV e promosso dal Global Freedom Network. Cristiani, ebrei, musulmani, hindù e buddhisti si sono impegnati a fare di tutto per sradicare entro il 2020 le moderne forme di schiavitù e il traffico delle persone. Decine di migliori di persone sono incatenate a questa disperata condizione, ha ricordato il Papa, ma poiché l'uomo è amore che si incarna in ogni essere umano, ogni persona è uguale e deve vedersi riconosciuta la stessa libertà e dignità. Qualsiasi relazione discriminante costituisce un delitto aberrante. Francesco ha quindi parlato di flagello atroce presente in grande scala in tutto il mondo, compreso nel turismo, ed ha chiamato la loro responsabilità sia i governi che l'opinione pubblica, chiedendo poi ai leader religiosi di elevare lo standard della vita spirituale e la visione liberatrice dell'uomo. Non possiamo tollerare che l'immagine del Dio vivo, ha concluso il Papa, sia soggetta alla tratta più aberrante. Tra i firmatari del documento, per gli anglicani, l'archivisco di Canterbury, Justin Welby, per i musulmani, il sottosegretario di Al-Azhar, Abbas Abdallah Soleiman, in rappresentanza del grande iman Mohamed Hadmed el-Tayeb e il grande Ayatollah Mohamed Takil al-Modannesi. Un rappresentante hindù e due buddhisti, tra cui il sommo sacerdote della Malesia. Per l'ebraismo, il rabbino capo David Rosen e il rabbino Abraham Skorka. Per gli ortodossi, il metropolita Emmanuel di Francia, in rappresentanza del patriarca ecumenico Bartolomeo I.